E rieccoci ragazzi dopo finalmente dopo tre settimane che non faccio video qui su youtube scusatemi ma ho avuto veramente tanto da fare un po' pigrizia, un po' questo, un po' quest'altro e un po' stavo organizzando quello di cui vi voglio parlare oggi quello di cui vi voglio parlare oggi è un nuovo progetto che ho messo in piedi da pochissimo tempo in realtà perché ci sto lavorando sopra da credo poco più di un mese, un mese e mezzo e per chi di voi non mi conoscesse, non sapesse ho abbastanza idee malsane da un certo punto di vista e diciamo che quando mi entra un'idea in testa difficilmente non la porto a casa come per esempio l'anno scorso quando siamo andati io e Silvia fino a Caponord di Model 3 solo per dimostrare che fare un viaggio lungo con un'auto elettrica non solo è possibile ma è fattibilissimo e soprattutto è semplicissimo siamo arrivati quindi fino a Caponord, tornati indietro ci siamo innamorati del Norvegia, abbiamo visto dei posti veramente fantastici e poi visto che ho fatto 30 ho deciso di fare 31 frutto anche degli Ether che al tempo erano dei trattori dell'elettrico dicevano che non sarei riuscito a tornarci in inverno perché in inverno le auto elettriche non ci riescono hanno problemi, si spengono, boh, cosa a caso ho deciso poi col Tesla Crebitali di ritornarci anche d'inverno sempre con Silvia, abbiamo fatto anche delle conoscenze particolari come quella di Babbo Natale insomma abbiamo avuto un'esperienza veramente fantastica che abbiamo toccato in meno 34 gradi insomma non è per fare un riassunto delle varie spedizioni che abbiamo fatto prima ma è per farvi capire che io ogni tanto ho delle idee non proprio intelligenti sotto il certo punto di vista che difficilmente altri perseguirebbero perché sono da fuori di testa come quella di cui vi voglio parlare oggi quella di cui vi voglio parlare oggi che come avete visto dal titolo si chiama Supercharger Tour o Supercharging Tour, devo ancora ben decidere quale dei due mi piace di più praticamente prevede di fare in 5 giorni tutti i Supercharger attualmente attivi in Italia percorrendo quindi 4500 km toccando 33 Supercharger attualmente attivi e se fate i conti bene o male capite che ci sono più o meno 900-920 km da fare ogni giorno quindi un ritmo molto molto serrato e molto molto difficile da perseguire soprattutto per 5 giorni di fila ma chiaramente io spero di riuscire a farcela sono sicuro che la mia macchina ce la farà ma spero di riuscire a farcela non tanto per la mia resistenza fisica ma per quanto riguarda traffico, cose di questo tipo che in questo periodo dell'anno anche se il Covid purtroppo sappiamo ha intaccato il turismo non poco potrebbero causarmi non pochi rallentamenti turismo che poi è stato uno dei motivi per cui ho deciso di fare questo viaggio perché dovete sapere che l'idea iniziale è nata perché ho visto a Mogliano Veneto che è dove carico più spesso al Supercharger diciamo che il 90% delle ricariche al Supercharger le ho fatte lì a Mogliano Veneto ho visto spesso, dicevo, esteri quindi tedeschi, austriaci, svizzeri e altre comunque persone nostrane con una Tesla quindi il turismo elettrico Tesla trovarsi in difficoltà per entrare al Supercharger di Mogliano e questo è dovuto dal fatto che in alcuni casi il navigatore Tesla non è proprio preciso nella posizione dove è dislocato effettivamente il Supercharger e quindi molti si trovano spiazzati alcune volte ho dovuto proprio accompagnare facendo segnaletti, quindi sfanalando, tedeschi al Supercharger perché non è difficile arrivarci ma Fatalità è dietro a un palazzo, a un hotel grande e quindi non era facilmente visibile e quindi un po' per il Covid e un po' perché questo settore italiano che è il turismo ha avuto un impatto negativo veramente molto grande soprattutto in questo periodo storico dell'anno come abbiamo già detto ho deciso di fare un po' del mio chiaramente io non sono nessuno ma voglio fare una specie di guida italiana dei Supercharger quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando, come avete capito bene, di fare tutti i Supercharger e cercare di dare per ogni singolo Supercharger tutte le nozioni, una specie di bignami ricondensare tutte le informazioni utili di quel Supercharger per arrivare, caricare e fare di quel tempo che siete fermi in ricarica che ormai, come avete visto dall'ultimo video del Supercharger V3 è veramente molto poco e quindi è ristretto fare di quel tempo tesoro quindi vi faccio un esempio al Supercharger di Brescia siamo a un centro commerciale quindi sono veramente molte possibilità per passare il tempo dovendo caricare lì per svariati minuti in alcuni altri Supercharger invece questa cosa non avviene quindi l'idea mia è quella di creare un video dedicato per ogni singolo Supercharger molto breve che raccolga informazioni come per esempio quanto tempo ci si mette ad arrivare a quel Supercharger perché in alcuni casi i Supercharger non sono proprio dislocati in maniera intelligente e quindi l'idea mia era proprio quella di creare una specie di bignami sempre aggiornato perché poi nei commenti vi chiederò di aggiornare informazioni qualora ci fossero degli aggiornamenti in modo che turisti dell'estero possano vedere questi video che saranno sottotitolati ovviamente in inglese e eventualmente anche in altre lingue perché diciamoci la verità non tutti parlano l'inglese e capire quale possa essere effettivamente la loro migliore sosta da fare nel loro viaggio in Italia quindi cercare un po' nel mio piccolo di aiutare questo settore turistico che avrà sicuramente una grandissima espressione nei prossimi anni sto parlando di quello elettrico covid 2020, 2021, 2022 permettendo detto questo però come sapete bene come sicuramente vi sarete già chiesti io non sono esperto di tutti i Supercharger anzi sicuramente ho visitato e sono molto esperto di Supercharger novegesi piuttosto che di alcuni anzi quasi tutti i Supercharger italiani io veramente ne ho visitati credo un 5 o 6 non di più quindi quello che vi chiedo di fare in questo momento se volete partecipare anzi vi chiedo di partecipare è quello di siete passati in un Supercharger ci andate tutti i giorni non lo so avete una particolare esperienza che volete condividere non so siete andati al Supercharger di adesso mi viene in mente un nome a caso quindi dirò Banana City e avete mangiato non so quel gnocco fritto che vi rimarrà per sempre impresso nella testa in quel ristorante che da fuori non gli davate 2 lire e poi in realtà vi siete seduti vi hanno trattato benissimo avete mangiato benissimo siete stati contenti insomma un'esperienza da raccontare sia in positivo che in negativo fatelo sapere scrivetela qui nel commento ovviamente dovete dire quale Supercharger vi state facendo riferimento ma mi raccomando fatelo fatelo perché lunedì prossimo partirò non con Silvia che ha saggiamente visto i 4500 km da fare in 5 giorni deciso di saltare questa pazzia che ho deciso di fare ma bensì ho trovato un nuovo partner di viaggio che è nato anche questo in maniera molto simpatica perché ne stavo parlando così ai miei colleghi di questa idea che mi era venuta e tutti mi davano del cretino e giustamente e invece uno dei miei colleghi ha raccolto un po' la sfida e ha deciso di seguirmi in questa impresa e lo conoscerete lunedì lo conoscerete lunedì perché? perché ho deciso di connettività permettendo streamare l'intero viaggio su YouTube nel canale delle live che trovate qui sotto in descrizione e su Twitch perché su Twitch? perché mi sono accorto dai test che ho fatto nei giorni scorsi chi ha visto su Discord chi è dentro il nostro canale Discord ha visto qualche imperfezione qualche notifica che non ci doveva essere ho fatto dei test e YouTube soprattutto il canale live che ho Electron Vault Live non è proprio il massimo per streammare adesso non vorrei che YouTube mi stia ascoltando e non sia molto contento di queste parole ma è la verità infatti anche durante l'Arctic Expedition molti di voi si sono lamentati del canale Electron Vault Live perché saltava spesso e non solo non arrivavano le notifiche quindi si perdevano il momento live canale live e Twitch vi lascio tutto quanto in descrizione trovate tutto quanto come al solito qui sotto anche il canale Telegram Discord se volete unirvi eccetera eccetera oltre a questo ragazzi c'è anche la possibilità di venire direttamente ai Supercharger perché passando tutta l'Italia se qualcuno vuole venirmi a incontrare o soprattutto se qualcuno esperto diciamo come sono esperto di mogliano magari è esperto di un particolare Supercharger è molto benvenuto a partecipare a questa impresa che ricordo ha un po' un fine nel sociale chiamiamolo così quello di creare un bigname di quel Supercharger che renda utile quel video effettivo che uscirà l'idea è quella di poi fare una specie di classifica di Supercharger quindi abbiamo già stilato alcune come chiamarle alcune categorie che potrebbero essere per esempio quello più bello quello più utile quello più vicino all'autostrada quello più veloce quello più brutto quello più inutile quello più utile quello più servito da servizi quindi non so quello più vicino al centro commerciale non so insomma abbiamo già delle categorie e se vi viene in mente qualche categoria anche voi interessante e anche la mia creatività mi raccomando scrivetelo qui nel commento e poi io valuterò di eventualmente aggiungere quella tra le categorie dei punteggi che andremo insieme poi a compilare perché per ogni video andremo a compilare la lista dei punteggi che abbiamo dato ai Supercharger e alla fine andremo praticamente a eleggere insieme chiamiamolo così i vari migliori Supercharger di quelli italiani e ora ragazzi io vi lascio mi raccomando lasciate un commento qui sotto con il Supercharger e con l'impressione che avete avuto e anche se magari c'è qualcosa da fare intorno non nelle immediate vicinanze del Supercharger come ad esempio non so a 10 km di questo Supercharger puoi trovare il parco naturale X eccetera in modo che i vari turisti che vedano quel video che vedranno quel video saranno in grado anche di valutare eventualmente di fermarsi qualora ne abbiano la possibilità anche in posti non vicino al Supercharger ma che comunque siano di interesse comune o di interesse turistico se non altro e detto questo come al solito mettete mi piace commento telegram instagram seguiteci qui su youtube con la campanella non col canale e invece stavo dicendo canale live e anche twitch trovate come al solito tutto in descrizione e noi ci vediamo lunedì in live ciao